Intervista a caldo. Questo è il team Crosspart, intervista, sto registrando. Il tuo problema principale, prima che parta la gara, è entrare in doccia dopo che si è fatta la doccia catanese. Sì, Angelo. Perché è altissima? Sì, è la notte quando dorme. Cosa fa quando dorme? Di tutto. Tu mi puoi dire cosa non fai? Fai prima, però russa? Di tutto. No, veramente? Lo tocchi? No, no, no. Lui fu in camera e io gli voglio buttare della coda. No, non è vero che non puoi fumare in camera. Ecco, però la doccia, magari quando esci dalla doccia abbassa, abbassa. Alle 5 minuti si alta, comincia a saltellare per la camera e mi dice, guarda, tu devi prendere queste pasticche di vitamina C, quella melanina. E tu un po' stai benissimo, hai detto di bella, mi ha detto. Perché penso che muore presto. No, non diciamo così. Senti, ma quindi, podio? Uno, due, tre. Fondamentalmente è già fatto. Grazie, grazie mille.